ragazzi siamo arrivati nell'altro appartamentino a saturnia facciamo vedere il pieno centro centro storico perché noi siamo tattici cucina possiamo invitare ospiti per un caffè camera tv più moderna di panzano e toilet non c'è la doccia ok ti lascio solo non c'è la doccia dovrà dire che faremo i tozzi senza lavarci c'è la doccia ma è doccia da da spiaggia diciamo così ma chi se ne frega proviamolo eccoci qua ci facciamo il nostro primo giretto esplorativo mangiocchiamo qualcosina e poi dopo ci prenderanno e andiamo a fare un giro alle terve perché il clima è ideale l'acqua è calda vuole un limone vuole un giro vuole un giro ragazzi siamo appena usciti dalle acque termali di saturnia è il 2 gennaio all'aperto fa freddo siamo andati in quelle naturali diluvia fa freddo non c'era posta da appoggiarsi l'acqua secondo me era fredda però ci stava iniziamo bene il nuovo anno sexy boy avete mai visto nessuno guidare in accampatoio e scarpe da ginnasi intanto riscaldamento a manetta per fortuna che abbiamo la camera due chilometri da questo posto infernale secondo me dante ha scritto ha descritto l'inferno dopo essere stato un giorno d'inverno alle terme di saturnia alle cascatelle del murino descritto o no però bello possiamo un sacco di zolfo lo smalto è andato via completamente sembra una rom intanto andiamo a farci una doccia e poi a mangiare 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 avete visto che stacco di coscia sexy let's go baby oggi siamo divertiti tra l'altro amici noi stiamo guidando in accampatoio che c'è frega ti immagini se ci ferma la politica adesso ma è una nota località balneare località balneare in italia a gennaio bababia fa freddo però adesso con il riscaldamento con la macchina si sta bene il problema sarà di nuovo dal parcheggio alla camera ma ce la faremo so che ce la faremo dopo la doccia è tutto un altro mondo si sta a dieci volte meglio adesso ci prepariamo per la saturnia by night amore sei pronta per la saturnia by night? certo vabbè mi riprendi sempre la foto come sei sexy grazie